Carissimi amiche, carissimi amici, eccoci giunti alla quinta domenica di Quaresima. Ci guida sempre per la nostra riflessione il Vangelo di Giovanni. Lo ascoltiamo insieme perché su questo faremo una breve riflessione. In quel tempo Gesù si avviò verso il Monte degli Olivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli si addette e si mise ad insegnare loro. Allora gli iscrivi ai farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero, maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E Chinatosi di nuovo scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e disse, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno, signore. E Gesù disse, neanch'io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Questa pagina non riporta semplicemente una disputa di carattere teologico, né si vuol fare il giudizio su una donna che forse ha sbagliato e colpevole di aver amato qualcuno diverso dall'uomo che la famiglia aveva scelto per lei. Ma vediamo il contesto. Gesù è seduto ad insegnare, quindi seduto, ovvero in un atteggiamento da maestro, nel tempio, nella casa del padre, in quel luogo che era stato trasformato dai sacerdoti, dice, in una spelonca di ladri. Ne avevano fatto, cioè, un luogo di mercato. Ecco, quindi, insegna che cosa Gesù? Ovviamente che è venuto a realizzare la volontà del padre, come sempre faceva, in particolare poi da alcuni giorni e come continuerà a fare anche nei giorni successivi. Ma questa interruzione così brusca nel suo insegnamento non è da vedere come un incidente di percorso, ma semmai come un'ulteriore opportunità per tenere una catechesi. Diventa un'occasione di insegnamento. Allora, scribi e farisei gli conducono, infatti, una donna sorpresa in flagrante adulterio. E gli pongono una domanda che è tanto provocatoria quanto ridicola. Mosè, nella legge, ci ha ordinato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici? Beh, innanzitutto bisogna fare una precisazione, perché la legge non diceva di lapidare solo a donna, ma il Levitico ricordava che se uno commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messe a morte. Ebbene, se era stata sorpresa in flagrante adulterio, allora ci chiediamo, l'uomo dov'era in quel momento? Perché questa domanda, a questo punto, diventa davvero oziosa e inutile. Mosè ha ordinato, quindi chiedere a Gesù, tu che cosa ne pensi? Beh, io credo che nessuno dei più ingenui degli interlocutori avrebbe mai risposto, io non sono d'accordo con Mosè, assolutamente. In realtà, come dice invece l'Evangelista Giovanni, si tratta di un trabocchetto, dice, per avere motivo di chi accusarlo. Ecco, simile a quello che gli avevano teso un'altra volta, quando gli avevano portato una moneta, gli avevano detto, ma è lecito o no pagare il tributo a Cesare. Ecco, anche quello era un trabocchetto. Ma Gesù dice che non si cura della loro domanda e continua a scrivere con il dito per terra. Guardate bene che il cortile del Tempio è in terra battuta, quindi Gesù non poteva scrivere, certo, sull'astricato fatto di pietre. Sono stati versati fiumi di inchiostro su questo, che cosa abbia scritto Gesù in quel momento? Beh, noi non lo sapremo mai, ma probabilmente era un gesto che invece indicava qualcosa d'altro. Indicava che la legge data da Dio a Mosè è stata scritta con il dito sulla pietra. Quindi Gesù vuole ricordare ai presenti che forse loro non hanno interpretato bene la legge, non hanno capito il significato della legge, proprio loro che invece si vantano di essere gli esperti, i maestri, i detentori. Al contrario invece hanno capito perfettamente il linguaggio quando Gesù ha detto chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra. Ecco che dice andarono via tutti dal più grande al più piccolo. In quel momento vedono come in un ritorno alla muviola tutta la loro vita, i loro peccati, le loro manchevolezze. Ecco Gesù vuole dare anche a loro un'opportunità fino all'ultimo del pentimento e della conversione. Spero che questo invito venga colto a partire da noi. Buona domenica a tutti!